18 anni fa l'economia digitale era poco più che un'intuizione aziende che lavoravano nel settore dei telefoni hanno visto completamente cambiato il proprio modello di business oggi il telefono non è più soltanto un telefono è contemporaneamente una macchina fotografica uno strumento di messaggistica un modo per navigare su internet ancora non hanno trovato il telefono che fa anche il caffè espresso giusto ma non escludo che ci arrivino è un modello totalmente in evoluzione